Sono molto soddisfatto per come si sono conclusi i lavori, la delega è stata significativamente irrobustita, soprattutto è stata introdotta la possibilità per il governo di realizzare un nuovo statuto dei lavoratori, nel senso che il governo è abilitato a riformare le regole sui rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori sulle mansioni, all'articolo 4 sulle tecnologie di controllo, all'articolo 13 sulle mansioni e all'articolo 18 sulle tutele. A questo proposito il lavoratore avrà sempre il diritto ad una tutela nel caso di licenziamento, ma quella tutela deve diventare monetaria e non può essere più la forzosa costrizione di datore di lavoro e di lavoratore a convivere in ogni caso.